Nuovo giorno, nuova live, pronti a continuare il nostro viaggio qui su Jurassic World Perfetto, bene, possiamo tornare al nostro viaggio avevamo un po' di cose da sistemare qui nel mentre, tanto per cominciare dovevamo sostituire il recinto con qualcosa di più economico ...economico Lo so che hai molto da fare, ma sono sicura che troverai un po' di tempo per dare un'occhiata a questo nuovo contratto Perfetto 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 Ok, alimentiamo la stazione qua con elettricità tocchiamo una stazione qui e 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 facciamo un altro della divisione scommetto che questo contratto ti piacerà facci un'occhiata almeno e e e e e e e e prima e 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 abbiamo una tempesta in arriva e dobbiamo sistemare queste roba qua la sistemiamo pure e ho fatto male a non a togliere e 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 ce l'hai fatta ce l'hai fatta complimenti a entrambi e 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